Il Delfino Training Center Il Delfino Training Center Dalli sviluppi Palumbo da due passi Ancora super il numero uno Il Delfino risponde Di Giovacchino si libera in aria Destro dritto per dritto che si stampa sul palo Poi Gobbo non riesce a concludere I pescaresi sono vivi Come vedremo nella ripresa Con le immagini di Flavio Forcellese Al primo del secondo tempo Ci prova subito Gobbo Bozzi allunga in corner Al quarto d'ora occasionissima per gli uomini di Giampaolo Punizione tagliata di Dercole Prima Bedin e poi Tankulic Non riescono a correggere in rete Le occasioni sono tante Il divertimento e alle stelle Al ventunesimo Bedin raccoglie lo spiegamento di Tankulic Palla sull'esterno della rete Al settantottesimo Cambiano gli equilibri della gara Marzucco se ne va sulla sinistra Cross al bacio Per Massa Che di testa Fa l'una uno Nel finale Miracolo di calore Sulla puntina di Ranieri Da pochi passi Poi sul corner seguente Gioco aereo di Carbonelli Paolilli Ribatte sulla linea Termina dunque così Pareggio d'oro In casa del Delfino Curi Pescara L'Aquila Con tanta delusione E tra le proteste Dei numerosissimi tifosi Giunti a Città Sant'Angelo Il Delfino Curi Pescara L'Aquila Uno a uno